Così parlò Zaratustra. Prefazione, paragrafo 2. Zaratustra scese solo giù dalla montagna e non incontrò nessuno, ma quando giunse ai boschi gli si parò dinnanzi un vegliardo che aveva lasciato la sua santa capanna per cercare radici nel bosco. E così il vegliardo parlò a Zaratustra. Familiare mi è questo viandante, molti anni fa egli è passato di qui, si chiamava Zaratustra, ma ora è cambiato. Allora tu portavi la tua cenere sul monte, oggi vuoi portare il tuo fuoco nelle valli. Non temi le punizioni contro gli incendiari? Sì, riconosco Zaratustra, il suo occhio è puro e sulla sua bocca non vi è traccia di disprezzo, il suo incedere non è forse come una danza? Trasformato è Zaratustra, un bambino è diventato Zaratustra, un risvegliato è Zaratustra. Che cosa mai vuoi ottenere da quelli che dormono? Hai vissuto nella tua solitudine come in un mare e il mare ti ha sorretto. Ahimè, ora vuoi scendere a terra? Vuoi di nuovo trascinare da solo il tuo corpo? Zaratustra rispose. Io amo gli uomini. Perché mai, disse il santo, mi sono rifugiato nella solitudine del bosco? Non è stato perché anch'io amavo troppo gli uomini. Ora io amo Dio. Non amo gli uomini. L'uomo è per me una cosa imperfetta. L'amore per gli uomini mi ucciderebbe, rispose Zaratustra. Non volevo parlare d'amore. Io porto un dono agli uomini. Non dare loro nulla, disse il santo. Piuttosto togli loro qualcosa, aiutali a sopportare. Sarà la cosa migliore che potrai fare per loro, perché sia bene anche per te. E se proprio vuoi dar loro qualcosa, non dare più di un'elemosi, lascia che mendichino per questo. No, rispose Zaratustra. Io non faccio elemosine. Non sono abbastanza povero per questo. Il santo rise di Zaratustra e disse, bada, che essi vogliono accettare i tuoi tesori. Sono diffidenti verso gli eremiti e non credono che noi veniamo a recare i nostri passi risuonano loro troppo solitari attraverso i vicoli. E quando di notte, estrando a letto, sentono camminare un uomo ben prima che si alzi il sole, di sicuro si chiedono dove va quel ladro? Non andare dagli uomini, resta nel bosco. Piuttosto vai dagli animali. Perché non vuoi essere come me? Un orso tra gli orsi, un uccello tra gli uccelli. E che fa il santo nel bosco? Chiese Zaratustra. Il santo rispose, faccio canzoni e le canto. E quanto faccio canzoni, rido, piango e mugulo. Così rendo lode a Dio. Cantando, piangendo, ridendo e mugolando, lodo quel Dio che è il mio Dio. Ma tu cosa ci porti? In dono. Udite queste parole. Zaratustra salutò il santo e disse, che cosa avrei da darvi? Piuttosto lasciatemi andare in fretta, che non vi porti via niente. E così si separarono, il vegliardo e l'uomo ridendo come ridono due ragazzi. Ma quando fu solo Zaratustra parlò così al suo cuore. E' mai possibile? Questo santo vecchio nel suo bosco non ha ancora sentito che Dio è morto. Secondo paragrafo della prefazione, veramente densissimo di significati, di simboli, di rimandi diciamo al proprio pensiero di Nietzsche, al cuore del pensiero di Nietzsche. Innanzitutto Zaratustra è disceso dal monte dopo dieci anni di solitudine e di silenzio e si sta recando a valle per portare agli uomini un dono, un dono che è partorito dalla solitudine, dalla ricerca. Questo dono sarà il superuomo, l'Ubermensch, l'oltreuomo, la morte di Dio, l'annuncio della nuova umanità. E discendendo incontra un vecchio, un eremita, un saggio che l'aveva già incontrato anni prima quando saliva verso la montagna. Io ti riconosco che sei Zaratustra, ma prima eri lento nel tuo camminare e portavi cenere su. Portavi dunque la pesantezza ma anche la miseria della vita, dell'Occidente, della moralità. Ora torni a valle con l'incendio, hai trasformato la cenere in incendio e sei un bambino, sei un trasformato, sei appunto un uomo nuovo. Zaratustra è un nuovo profeta, non è più lo Zaratustra della morale. Zaratustra, nell'opera di Nice, è il primo profeta che è ritornato però all'umanità, è ritornato dall'umanità, è ritornato nel mondo, al mondo per annunciare la morte di Dio e l'avvento del superuomo. Dunque porta con sé un trapasso, una rinascita, porta con sé l'annuncio della decadenza, a decadenza, e Nice è il grande autore che ha saputo intravedere la decadenza della modernità. In questo un antimoderno, Nice, sa che la modernità, la sua dimassa, sa che la tecnologia, oltre a portare sicuramente i miglioramenti pratici, portano con sé una mediocrità, portano con sé una standardizzazione, un'omologazione. La società, sempre più in decadenza, vede morire gli dèi, prova a sostituire questi dèi con nuove divinità. E Zaratustra sta tornando per dire a tutti che Dio è morto, gli dèi sono morti, gli dèi stanno crepuscolando e non bisognerà sostituire con nuovi dèi, ma con un uomo nuovo, e dunque porterà l'incendio. Ma questo incendio porterà danza, l'immagine della danza. Danza per Nice è il Dionisiaco, è la liberazione, la leggerezza, che nasce però da una radicale accettazione della realtà e dal dolore, sia leggeri e leggiati, solo accettando il dolore del mondo, solo accettando la realtà e la terra, solo accettando la morte di Dio. E cosa diranno gli uomini mentre dormono? Gli uomini mentre dormono non sono pronti all'annuncio, non sono pronti alla novità, non sono pronti al cambiamento, tutti scambieranno per un ladro. Io amo gli uomini. Invece il saggio risponde che lui ama Dio, che ho quale remita, il sacerdote che ama Dio. Non bisogna amare Dio, bisogna amare gli uomini. Il saggio invece ormai non ama più gli uomini, li riconosce come ormai ingrati, come meschini, bisogna portare l'amore verso Dio e poi Dio ci darà il perdono, pregare Dio, allontanarsi. Ecco la menzogna, la metafisica, l'illusione, la fuga, allontanarsi dal mondo, amare un Dio, un Dio che non c'è più, un Dio che è morto invece, dice, dice. Non bisogna amare Dio, bisogna amare gli uomini. Io non amo gli uomini, io amo Dio invece, risponde il saggio, e non do nulla agli uomini, perché gli uomini non sanno ascoltare, non sanno accettare. Invece bisogna andare dagli uomini, risponde Zaratustra, bisogna andare dagli uomini per portare il grande annuncio. Io non sono rimasto solitario per poi ritornare a balle e amare Dio, ma sono giunto qua per far esplodere il mondo, per incendiare il mondo, per suonare, per portare come una sorta di pan, che cosa? Una musica, una musica, per far danzare gli uomini liberi. Bisogna riconoscere che attorno a noi ci sono le macerie nodite. No, dice invece il saggio. Gli uomini non sono pronti. Io canto e rido e piango per Dio e per me stesso. E Zaratustra a questo punto si allontana, entrambi ridono, ma le risate di Zaratustra sono risate di un uomo nuovo, di un trasformato, di un trasfigurato. E quando si allontana dall'uomo parla al suo cuore Zaratustra e dice questo vecchio saggio è nel bosco e non ha visto cosa c'è nel mondo, non ha visto al di là del suo naso, al di là della sua vita, non ha visto che Dio è morto. Così parlo Zaratustra.